La procura di Nocera Inferiore ha concluso le indagini sulla tragica morte di Francesco Pontone, il 17enne di Castel San Giorgio, deceduto in un incidente stradale la sera del 17 giugno a Cava dei Tirreni. L'incidente si è verificato in via 25 luglio quando lo scooter su cui viaggiava Pontone come passeggero guidato da un suo giovane amico durante un sorpasso si era scontrato con una Hyundai che proveniva dal senso di marcia opposto e che aveva oltrepassato la linea di mezzeria per evitare a sua volta l'ingombro di una Ford Fiesta. Le dinamiche del sinistro sono state ricostruite nel dettaglio dalle forze dell'ordine durante mesi di indagini e ora la procura ha individuato tre persone indagate per omicidio stradale, stralciata la posizione del giovane che guidava lo scooter che sarà valutata presso il tribunale di Salerno, mentre per gli altri due soggetti coinvolti, ovvero il conducente della Hyundai, un uomo di 75 anni, e il proprietario della Ford Fiesta, un giovane di 26 anni, la procura ha ritenuto che le loro condotte autonome abbiano contribuito in modo determinante alla tragedia. Secondo la ricostruzione del pubblico ministero, l'incidente è stato causato da una serie di manovre errate e da condotte negligenti. Il giovane alla guida dello scooter avrebbe tentato un sorpasso in condizioni non ideali, nonostante lo spazio ridotto causato dalla presenza di veicoli nel senso opposto. La responsabilità del 75enne alla guida della Hyundai, invece, risiede, secondo il PM, nella sua decisione di non rallentare o fermarsi completamente durante l'incrocio con il ciclomotore, nonostante fosse evidente la presenza dell'auto in sosta vietata e la manovra di sorpasso in corso da parte dello scooter. Il suo tentativo di evitare l'ostacolo sulla destra, spostandosi verso il centro della carreggiata, ha aggravato la situazione restringendo ulteriormente lo spazio per il passaggio del ciclomotore. Anche il 26enne proprietario della Ford Fiesta ha ricevuto accuse simili. La sua auto, parcheggiata in sosta e vietata, costituiva un ingombro significativo per il traffico. Inoltre, il giovane proprietario dell'auto si trovava fuori dal veicolo, vicino alla porta dell'autoguida, con un borsone a tracolla che sporgeva verso la strada, contribuendo ulteriormente a ridurre lo spazio di manovra e creando un pericolo per chi transitava sulla via. Le indagini hanno quindi stabilito che la tragedia è stata il risultato di una concatenazione di errori e negligenze da parte di tutti gli indagati, che non hanno tenuto conto delle condizioni di sicurezza e delle regole del codice della strada. Pertanto, per tutti e tre i soggetti coinvolti, oltre all'accusa di omicidio stradale, si profilano anche diverse violazioni delle norme stradali. La procura di nocera inferiore, dopo aver notificato gli avvisi di chiusura delle indagini, è quindi pronta a chiedere il processo.